Siamo di nuovo in Vetra, siamo di nuovo con Stefano, Ed Bruber di Vetra, che non ha mai mangiato un Big Mac di McDonald's. Quindi, allora, per fare un po' di divulgazione, ho pensato di provare quantomeno a rifare il Big Mac. Ragazzi, Stefano non lo sa, ma adesso glielo raccontiamo. Voi invece sapete esattamente che cos'è un Big Mac, se non sapete che cos'è un Big Mac, forse non siete nel posto giusto. Per chi non lo sapesse, però dai, anzi no, per chi non lo sapesse, amen, per Stefano, Stefano. Il Big Mac è il panino iconico di McDonald's, è composto da tre strati, in realtà da due, perché poi uno pane strato e poi copertura, è sotto ovviamente base. Un panino normalissimo da hamburger, per cui con del sesamo sopra, noi l'abbiamo artigianale. Come sarà artigianale è tutto quello che faremo, non è vero perché la maionese è industriale, ma nessuno ci verrà a dire qualcosa. Ha la particolarità di essere molto semplice come gusto, perché è vero, vieni sorpreso un po' dalla salsa. E poi ci sono due hamburger, due patti da 100 grammi, da 103 grammi, se vogliamo andare con l'esattezza, a dare il gusto tipico della carne e della tradizione americana. Filetti di iceberg, fili di iceberg se preferite, un po' di cipollotto bianco, cetriolino, insomma. Questi sono gli ingredienti. La prima cosa che dobbiamo fare è la salsa, perché è proprio la salsa il segreto di ogni panino di McDonald's, se vogliamo. Avete già visto il crispy mac bacon, il crispy mac bacon poi abbiamo anche cercato di decifrare un pochino la salsa. Stavolta noi qui per il Big Mac abbiamo la maionese e dobbiamo aggiungere uno sbuffo di ketchup, normalissimo. Andiamo assolutamente occhio, non facciamo niente controllando le quantità, le dosi. Un filino meno di senape e poi andiamo a unire tutti i nostri cetriolini. Una volta fatto questo dobbiamo semplicemente girare. Cosa succederà alla maionese? Inevitabilmente diventerà un pochino più colorata, ma non molto più colorata, vedi che tutto sommato non prende tanta pigmentazione, non prende tanto colore. Semplicemente dovrebbe essere impreziosita dalla senape e dal ketchup e completata dai nostri cetriolini. Io non te la voglio far assaggiare adesso, pertanto non hai benchmark, cosa te la faccio assaggiare a fare? Dimmi invece che cosa beviamo insieme a questo Big Mac. Beh allora tu proponi un hamburger americano, insomma patria, dei grandi gusti, dei grandi sapori, dell'eccesso e tutto quanto, ovviamente in America la grande anche riscoperta di tutto quello che è stato un po' accantonato, forse perché eccessivo del vecchio continente. Gli americani per affiancare appunto al gusto di un grande hamburger, di un grande sapore, decidono di rispolverare le IPA inglesi, quindi birre di un carattere maltato ma soprattutto luppolato, quindi tanto luppolo, tanti profumi di luppolo e decidono di aggiungervi i loro luppoli, i loro luppoli che coltivano nel nord ovest degli Stati Uniti che sono estremamente profumati. Quindi qui avrai, abbiamo deciso di associare la nostra vetra IPA che si ispira proprio a quelle birre lì, utilizzando luppoli che acquistiamo direttamente dagli Stati Uniti e che danno proprio questi aromi tropicali, qua senti il mango, la papaya, l'agrume, la buccia dell'arancia, tutta una serie di aromi molto forti, molto intensi che si abbinano perfettamente a un piatto con una salsa a quanto pare ricca e gustosa come quella che hai proposto. Allora lo speriamo, lo speriamo in attesa di andare a versarla e vedere come sarà l'abbinamento con il nostro Big Mac rifatto a casa, per intenderci, noi abbiamo messo i quattro patti perché faremo due panini sulla griglia, non abbiamo una piastra, lo facciamo sulla griglia quindi dovremmo avere un pochino di aroma in più rispetto alla piastra dove invece c'è più maillard quindi dove c'è un pochino di crosticina in più, stavolta noi dobbiamo andare a puntare su una cottura da media ben cotta perché se l'hamburger è al sangue quando lo mangi ti si squaglia fondamentalmente in mano, anche se la carne tendenzialmente va mangiata al sangue per quanto riguarda il manzo e negli altri tagli, invece qui andiamo a giocarcela in questa maniera qui. Non ho aggiunto il sale, cosa che adesso faccio, lo giriamo soltanto una volta, altro trick da gara, l'hamburger, giratelo pochissimo, ulteriore trick da gara, toglietelo dal frigorifero poco prima di metterlo sulla piastra o sulla griglia perché trattandosi di carne macinata inevitabilmente se lo tirate fuori troppo prima si sfalda. Adesso dateci un secondo, lo facciamo andare 3-4 minuti per lato e poi lo giriamo. 8-9 minuti, tanto sono andati i nostri patti, li abbiamo girati come ci siamo detti una volta, no non è vero, li ho girati una volta di troppo quindi non ho dei grandissimi grill marks però sono arrivato al cuore a 65 gradi che rappresenta un po' quella cottura ideale a livello di temperatura per avere un panino che speriamo non lasci liquido ovunque. Abbiamo già messo i nostri patti qui e mentre Stefano ci versa, noi ci versiamo la salsa e componiamo il nostro Big Mac. Allora, posso farti una domanda Luca? Giusto per curiosità, sono curioso, non avendo mai mangiato il Big Mac sono molto incuriosito e non vedo l'ora di addentarlo. Ma il panino non va di solito allora il panino andrebbe scaldato, poi puoi utilizzare l'olio oppure un pochino di burro per dargli ulteriore gusto. Io però tendo a non grigliarlo perché in questo senso, in questa chiave quest'oggi soprattutto mi fido molto di chi ha fatto questi panini con il sesamo sopra da hamburger quindi voglio addentarlo così anche perché erano freschi stamattina alle 8 e mezza sono più o meno le due quindi dovrebbero aver tenuto in maniera perfetta. Assembliamo il nostro Big Mac. Dai non ti rompo più, non ti faccio più i commenti sotto. No, 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 va bene, va bene. No, ma io lo scaldavo con 22 kg di burro. Va bene, bravo. Anche il vostro cardiologo se ne accorgerà. Allora ragazzi, salsa. Lavoriamo ovviamente su due strati proprio perché ne abbiamo tre in totale, no? Iceberg. Da una parte. Iceberg. Dall'altra. Eccola qua. E poi cipollotto. Senza paura per il nostro pomeriggio social tanto siamo più o meno a distanza. Andiamo a metterci il nostro cipollotto. Cipollotto. Andiamo a rimettere insieme l'iceberg che si è perso lungo tutto il tagliere a causa del vento che si è alzato. Ancora un po' di cipollotto. Cipollotto ci piace. Poi paddy uno paddy due qui si tratta di andare a beccare la parte giusta. Allora dovrebbe essere questa quindi questa in teoria dovrebbe essere il mio Big Mac. Prova del 9. Lo tagliamo. Vediamo un po' che cosa succede. Paura. Mamma paura. No. Direi che va bene. Direi che va bene. Cerco di darvi un po' più di luce e vedete com'è com'è diventato. Per cui il nostro hamburger è un pochettino rosa ma non è al sangue. La nostra salsa fa il resto. Stefano. Un po' meiazzone. Provare per credere. Sono curiosissimo. Vediamo un po'. Ti piace il tuo primo Big Mac? Mi sa che tutte le settimane mi faccia un sat-up. Non sono sicuro che sia lo stesso ma... Allora... Buonissimo. Detto in tutta onestà. Rispetto a Mac abbiamo un'altezza maggiore per forza di cose. Una consistenza diversa del pane che fa un pochino più di resistenza rispetto a quello che trovate nei vari ristoranti di Mac. Invece la salsa devo dire che se non uguale si avvicina tantissimo a quella del Big Mac. Davvero. Se fosse sbagliata ve lo direi tanto. Comunque non siete qui. Quindi fidatevi, non fidatevi, decidetelo voi. L'iceberg, il cipollotto, danno anche quella croccantezza. Io che cosa non ho fatto che invece c'è nel Big Mac? Non ho messo i pezzettini di cetriolo sopra. Quelli che avevo tagliato lungo... diciamo longitudinalmente no? Perché? Perché secondo me bastano quelli tagliati un pochino grossi che avevo già messo nella salsa. Se però il cetriolo vi piace potete tranquillamente andare... Gusti sono gusti. Chi siamo noi per così giudicarvi? Nessuno. Salsa geniale. Mentre tu azzani io trinco. Brindo. Che meraviglia. Preciso. Preciso. Pulisce. Intensità paragonabile. Pulisce. Pulisce proprio il termine giusto perché è un panino comunque complesso da un punto di vista di sapore. Succulento, grasso. E poi noi non avendo messo l'ulteriore cetriolino abbiamo bisogno di una pulizia in più. Vero. Pulizia che ci viene data dalla birra. Quindi abbiamo tranquillamente risolto una mia mancanza, una mia dimenticanza. Quella di mettere il cetriolino sulla testa dell'ultimo hamburger, del secondo hamburger, di quello sopra. Ragazzi noi ci azzaniamo il resto del Big Mac e poi come sempre le considerazioni finali grazie a Stefano. Anche per questa. Ragazzi il Big Mac è uno dei panini iconici di McDonald's. Stavo cercando di capire che cosa mi mancasse e sicuramente mi manca il Big Tasty. Ma il Big Tasty non c'è sempre quindi a volte mi dimentico di farlo eccetera eccetera. Invece ci sono sempre le vetre le trovate su vetra.beer. Voi utilizzate il codice sconto BB Cool per ottenere un 10% sul vostro acquisto. In chiusura come sempre. Un ringraziamento a Vetra Beer per averci ospitato negli spazi meravigliosi qui a Carono per Tusella. I nostri contatti. LucaChiocciolabbcool.it per le domande. DianaChiocciolabbcool.it per le informazioni commerciali. Il Bordons e BB Cooler via direct su Instagram. Non manca nemmeno lo shop Amazon. Non manca nemmeno il canale Telegram. Insomma sapete benissimo dove venirmi a prendere. Ammazzate. Qui invece per iscrivervi e qui sotto come sempre per guardare il video più attenente a voi. Restate sempre in contatto con noi. A noi non fa che piacere. Ciao ragazzi.